Premiazione in sala giunta con il sindaco di Napoli Luigi De Magistris per il circolo posillipo che si è aggiudicato il campionato mondiale 2017 di pallannuoto giovanile under 11. Con una squadra di soli 10 ragazzi il posillipo ha vinto tutte le partite del campionato. Alla cerimonia di premiazione sono intervenuti il presidente del consiglio comunale Sandro Fucito ed i ragazzi della squadra accompagnati dal coach e dai rappresentanti del circolo. Un grandissimo orgoglio, un campionato mondiale con migliaia di ragazzi under 11 anni, circolo posillipo, pallannuoto, quindi la tradizione, la forza della nostra città e anche come hanno vinto sono partiti non favoriti, dimostra che questi ragazzi hanno capacità, competenza, passione, forza di volontà, voglia di essere protagonisti e vincenti. Quindi un motivo di grande orgoglio dare loro una medaglia e una targa a nome di tutta la città.